Stretta sui migranti clandestini o in attesa di risposte sul permesso di soggiorno che bivaccano nei parchi o nelle strutture abbandonate della città. A Trieste controlli della polizia nei silos, a Pordenone la polizia locale monitora i parchi e il comune attrezza una zona per il riparo autorizzato. Presto il governo renderà nota la lista dei siti scelti per ospitare i CPR, almeno uno in ogni regione. Un escursionista austriaco di 76 anni è morto sulla cima di Terra Rossa cadendo mentre percorreva un sentiero. L'uomo ha fatto un volo di 70 metri. A Verzegni il sunrunner colto da malore va in arresto cardiaco salvato dall'intervento dei presenti sul posto guidati da un infermiere della Sores. Udine fra le città protagoniste del giletto d'Italia, un'iniziativa volta a favorire la mobilità ciclabile e sostenibile, promossa questa mattina in due fra le principali vie di accesso al centro cittadino in occasione della settimana mondiale della mobilità. L'Università di Udine ha ottenuto il disco verde per il finanziamento di 26 progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, 12 come ente coordinatore finanziati con fondi del PNRR approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il TG News 24. Ancora il tema dell'immigrazione in apertura dopo i provvedimenti che il governo ha anticipato con piante dosi che ha detto che presto verrà fornita la lista di quelli che saranno i CPR almeno uno in ogni regione del nostro paese. Sono scattati controlli sempre più intensificati da parte delle forze dell'ordine in alcune città, in particolare a Trieste e Pordenone. Cominciamo con Trieste dove la Questura ha coordinato un'operazione con agenti di polizia in collaborazione con carabinieri, guardia di finanza per controllare la posizione di immigrati nei silos. Non è uno sgombero, giova a precisarlo, è un'attività di controllo per vagliare la posizione per così dire amministrativa delle persone che ormai sono diventati i veri e propri residenti del silos con alle spalle, sullo sfondo un racket di droga che ben conosciamo e la gestione dei posti letto. Blizzo delle forze dell'ordine all'interno del silos questa mattina, un'azione decisa in sede di comitato per l'ordine della sicurezza pubblica è immediatamente attuata, obiettivo verificare la posizione di ogni occupante della struttura. Più di 130 migranti controllati da polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, circa 30 profughi sono stati caricati nei furgoni del reparto mobile di Padova e portati via perché privi di qualsiasi tipo di documentazione. Per loro un'unica opzione per rimanere in Italia, fare richiesta di asilo o protezione internazionale. Intanto qui io vedo immondizia, spazzatura, un poliziotto che in questo momento sta passando e che sta insieme ai colleghi, li vedete in tenuta anche con i caschi in quasi tenuta antisommosso, oserei dire, proprio per vedere la situazione. Hanno le mascherine addosso ovviamente come presidio sanitario. Come vedete ci sono anche le unità cinofile, c'è anche la Guardia di Finanza con l'unità cinofila immagino per cercare tracce di stupefacenti. Operazioni che continuano, come vedete il buco sulla rete, permette alle persone tranquillamente di accedere al suo interno con un presidio qui iniziale di due poliziotti che si assicurano che ovviamente nessuno intervenga e disturbi le operazioni in corso. Da quel che risulta non sarebbe stata trovata droga nascosta all'interno del silos, ma i controlli sono stati condotti nel massimo riservo. L'attività si è conclusa intorno alle 11. Sono queste le operazioni che anticipano il futuro sgombero del silos. Intanto la questura dovrà identificare tutte quelle persone che ad oggi non avevano ancora fatto domanda di asilo o di protezione internazionale. Andiamo invece a Pordenone dove dopo i blitz anti bivacchi il Comune ha messo a disposizione un'area coperta per ospitare i senza dimora, in particolare migranti, in attesa di risposte per quanto riguarda la richiesta di permesso di soggiorno. Sono scattati però ulteriori controlli oggi in città da parte della Polizia locale. Il servizio di Monica Narvini. Tensioni su migranti nella destra tagliamento. A Pordenone le regole non le fanno né le associazioni migrati né la politica, ma le norme, le leggi e i regolamenti. Non si può abivaccare, dormire nei parchi, lasciare sporcizia, rifiuti o oggetti personali, così in una nota al sindaco Alessandro Ciriani. In provincia, spiega, grazie all'accoglienza diffusa sono ospitate 715 persone. Insieme alla prefettura ci stiamo impegnando a trovare posti, letto per altre 60 persone, ma non è così facile. È chiaro che, continua Ciriani, in un momento di emergenza, l'aver approntato nell'area della comina, una struttura che garantisce a queste persone un tetto, servizi igienici e somministrazione dei pasti, mi pare una soluzione più che dignitosa rispetto a quella precaria dei bivacchi per strada. Eppure, accusa il primo cittadino, alcune associazioni preferiscono lasciarli nei parchi per creare scompiglio, degrado e confusione sotto il profilo politico. Questo mercoledì mattina la polizia locale del distretto Friuli Occidentale ha controllato, prima dell'alba, alcune delle principali zone di bivacco notturno, l'ex fiera, la chiesa di Beato Odorico, l'auditorium Concordia e il parco Galvani. Ha identificato 23 persone. Tra queste, 5 sono risultate in condizioni di clandestinità, altre 4 comunitarie, già destinatarie di diversi ordini di allontanamento, sia da Pordenone sia da altre città della regione. Le altre 14, già in possesso di lettera di convocazione presso l'ufficio immigrazione della Questura sono state informate rispetto al divieto di bivacco vigente in città e alla possibilità di fluire provvisoriamente dell'area della Comina. Un autobus è stato predisposto per accompagnarli nella zona. Servizi di controllo continueranno sistematicamente, informa la polizia locale, anche nelle prossime settimane. E chiudiamo questa pagina dedicata all'immigrazione con il servizio dell'Agenzia ANSA sulle ultime novità che arrivano dal Governo, in particolare dal Ministro Piantedosi sulla lista dei CPR che, ha detto, Piantedosi verranno aperti in ogni regione, uno almeno in ogni regione d'Italia. Una lista che scotta. Non c'è ancora l'elenco delle strutture che il genio militare dovrà trasformare nel più breve tempo possibile, ha chiesto la Premier Meloni, nei nuovi centri di permanenza per il rimpatrio. Sarà sul tavolo nel giro di due mesi e poi inizieranno i lavori. Le località scelte saranno siti di interesse nazionale per la sicurezza. Ma c'è già chi alza le barricate, come ad esempio il presidente della Toscana Eugenio Gianni, che ha già annunciato che non darà l'ok a nessun CPR nella regione. Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è però deciso a proseguire. Ce lo chiede l'Europa. Ce ne saranno almeno uno per regione. Critiche anche dai sindacati di polizia per il SILP, CGL. I centri, con l'allungamento della permanenza a 18 mesi, diventeranno delle vere e proprie bombe sociali. Le proteste dei territori sono state messe in conto dal Governo. Proprio per questo, come ha fatto sapere Giorgia Meloni, i centri sorgeranno in luoghi a bassissima densità abitativa e facilmente perimetrabili e sorvegliabili. Caserme e siti militari, già con i muri di cinta, si prestano, ma non saranno i soli siti considerati. Alla difesa è in corso una ricognizione delle strutture con le caratteristiche adatte. Anche l'Agenzia del Demagno si sta muovendo. Ci vorrà un paio di mesi per la valutazione e poi il genio militare. Potrà partire con i lavori. Tragedia in montagna, dove questa mattina un 76enne escursionista austriaco ha perso la vita con un volo di 70 metri mentre era su un sentiero. Il servizio di Monica Nardini ci parla anche invece di un altro caso, un runner colto da malore e copito da un arresto cardiaco è stato rianimato dalle persone presenti sul posto guidate dagli infermieri della Sores. Un uomo di nazionalità austriaca classe 1947 ha perso la vita poco prima delle 13 nel territorio comunale di Chiusaforte, nella zona cima di Terra Rossa, a circa 1800 metri di altitudine, durante un'escursione in comitiva. È ruzzolato lungo un pendio alla fine del sentiero che scende dalla cima. La caduta, come informa il soccorso alpino e speleologico regionale, è probabilmente conseguente a un malore. A dare l'allarme, attraverso un numero unico per l'emergenza 112, sono stati compagni di comitiva. Gli infermieri della Sores, la struttura operativa regionale emergenza sanitaria, hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'elisoccorso e attivato i soccorritori della stazione di cave del predile della Guardia di Finanza. I tentativi di rianimazione dell'ultrasettantenne, Carinziano, sono durati a lungo, ma in vano. Un altro uomo si è sentito male nella mattinata, ma nella zona di Verzenis ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine e in conseguenza un arresto cardiocircolatorio. Come riporta la Sores, si è accasciato mentre stava correndo lungo il ponte di San Floriano. A notare l'accaduto alcune persone che hanno subito chiesto aiuto attraverso il numero unico 112. Un infermiere della struttura operativa regionale emergenza sanitaria è rimasto collegato con loro, guidando le manovre di rianimazione cardiopolmonare al telefono. Le equip sanitarie, giunte poco dopo sul posto, le hanno poi continuate e il cuore della persona è ripreso a battere. L'uomo è stato trasportato in volo all'ospedale di Udine con segnali di ripresa. Andiamo avanti ancora con la cronaca. Questa mattina brutta sorpresa per i gestori, i proprietari del bar-ristorante La Frasca in Piazzetta Antonini. Luca Ursig ci racconta cosa è successo. Ancora un furto ai danni di un locale del centro cittadino udinese. Questa volta la spiacevole sorpresa ha interessato i titolari della Frasca Pozzara di Piazzetta Antonini, dove la scorsa notte, in un orario compreso tra l'una e le sei, alcuni malviventi hanno spaccato una vetrata del locale, riuscendo a crearsi una via d'accesso attraverso la quale trafugare alcuni valori. Per aprirsi il varco, presumibilmente, i ladri hanno utilizzato due grossi pezzi di piastrella presenti tra i tavoli dell'attività, senza però essere né visti né sentiti da alcun passante o abitante della zona. Sul caso indaga la locale questura per quantificare il valore della merce sottratta e provare a individuare i responsabili. C'è preoccupazione e sconforto tra i gestori della Frasca, che evidenziano come questo sia il terzo furto subito nell'ultimo anno e mezzo e sottolineano la carenza di controllo in un'area che ospita alcune fra le principali sedi dell'Università di Udine, dove non si registra la presenza di alcuna telecamera di videosorveglianza. Ancora per la cronaca andiamo a vedere il sito di Udinese TV TV 12, il portale dell'informazione, con una notizia del pomeriggio che, vedete qui, riporta di un incidente domestico a Tavagnacco, dove una persona è caduta da una scala da circa due metri ed è stato ricoverato in gravi condizioni per causa in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio dunque ed è caduto ed è stato dunque soccorso per essere poi trasportato in ambulanza con equip di automedica a bordo all'ospedale Santa Maria della Misericordia in condizioni serie. Adesso andiamo invece a parlare di opportunità per il lavoro, un Recruiting Day che sarà organizzato prossimamente a Monfalcone, oggi è stato presentato ed era presente l'assessore Rosolen. L'assessore Rosolen ha presentato il Recruiting Day di Monfalcone, realizzato in collaborazione con il Comune in programma il 17 di ottobre, un evento importante anche per lo sviluppo industriale di quest'area. È un momento importante per lo sviluppo industriale di quest'area, lo facciamo a Monfalcone che è il luogo su cui gravitano tutta una serie di interessi legati ai settori dell'industria, non solo della navalmeccanica, in un percorso che la direzione lavoro sta facendo di intercettare non solo competenze presenti all'interno del nostro mercato del lavoro, ma anche percorsi formativi necessari nell'ambito sia del piano nazionale di ripresa e resilienza, sia rispetto ai percorsi formativi legati al Fondo Sociale Europeo. Un aspetto importante è il fatto che Regione Friuli Venezia Giulia sta anticipando i tempi rispetto a proiezioni che vedono il tema demografico e il tema del mismatch delle competenze sempre più evidente, non solo a livello nazionale, ma anche in Friuli Venezia Giulia. La città di Udine è protagonista di un progetto di mobilità sostenibile, mobilità green, l'ambito della settimana dedicata alla mobilità sostenibile. Vediamo cosa è successo questa mattina in città. In corrispondenza della settimana europea della mobilità sostenibile, anche quest'anno il Comune di Udine ha affiancato le associazioni Lega Ambiente ed Euromobility nella partecipazione al Giretto d'Italia. Una sorta di campionato urbano della ciclabilità tra varie città della penisola, volto a valutare quale tra queste registra il maggiore incremento di mezzi a basso impatto ambientale e a stimolare la mobilità green. Due, i punti del centro cittadino di Udine, dove questa mattina dalle ore 7.30 alle 9.30 sono stati monitorati i transiti dei mezzi di trasporto. È un'iniziativa che noi come circolo di Udine facciamo da 10 anni e quindi è un cincimento, diciamo così, una registrazione manuale di passaggi delle auto, dei motocicli, delle moto, delle biciclette, camion e altri mezzi. Proprio per mettere confronto anno per anno passaggi e eventuali incrementi. Poi questi dati servono anche per avere un quadro della situazione di quanti mezzi ci sono in entrati in città. I due punti che abbiamo scelto sono fissi da ormai appunto da 10 anni, questo in via Mantica e l'altro a metà in via Aquileia. Un'iniziativa volta soprattutto a stimolare l'utilizzo della bicicletta. Udine come si colloca in questo senso? È una situazione discreta. Purtroppo paghiamo il discorso che a Udine ci sono una percentuale molto alta a livello nazionale di auto per abitante, quasi 85 auto ogni 100 abitanti. Poi a Udine è molto penalizzata per quanto riguarda l'arrivo di circa un 20-25 mila veicoli dai comuni con termini. Gente che viene a lavorare e poi rientra la sera a fine giornata lavorativa. Qual è la situazione che si registra in via Aquileia? È buona, negli anni miglioramento, un aumento delle biciclette in particolare la mattina fino alle 8 e mezza salgono verso il centro. Dopodiché ci sono tanti turisti che fanno l'FVG1. Dopodiché diventa tranquilla una viabilità cittadina. Per quanto riguarda i monopattini? Qualcuno, sì, è passato. Abbiamo segnato anche quelli come varietà di cicli. In questa occasione è stato anche intervistato Anzil per quanto riguarda gli investimenti che potrebbero arrivare da parte della regione e quindi da parte del pubblico per riammodernare gli impianti sportivi. La regione Friuli Venezia Giulia guarda al proprio futuro sportivo con ambizione e con la volontà di offrire ai propri cittadini strutture attrezzate e all'avanguardia. Per questo la Giunta regionale ha approvato un nuovo bando a sostegno delle associazioni e delle società sportive non professionistiche del territorio, finalizzato alla realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti da esse gestiti. Si tratta di un bando finalizzato a interventi di ordinaria manutenzione degli impianti sportivi per importi che variano da 10 a 40 mila euro. È uno dei tanti bandi che la regione sta elaborando proprio in considerazione del fatto che la nostra impiantistica sportiva necessita assolutamente di radicali interventi di adeguamento e di ristrutturazione. È uno dei tanti piccoli passi che stiamo facendo verso questo traguardo della completa riqualificazione degli impianti sportivi. Le domande di contributo potranno essere inoltrate attraverso apposita modulistica dalle ore 9 del 25 settembre alle 16 del 20 ottobre prossimo utilizzando il sistema informatico per la presentazione delle istanze online a cui si accede attraverso il sito istituzionale della regione. Le tempistiche entro le quali devono essere svolti i lavori? I lavori devono essere svolti entro il prossimo anno e devono essere poi rendicontati entro i termini che nell'avviso che è pubblicato sul sito della regione sono nel dettaglio chiariti. Quarta edizione del premio Midolini. Andiamo da Monica Nardini in collegamento in diretta per presentarci questo evento. Buonasera Monica. Sì, buonasera dalla zona di San Gotardo. Lo vedete ancora in corso questo evento di premiazione nell'ambito della quarta edizione del premio d'arte Midolini dedicato all'insegna delle tematiche ambientali, della sostenibilità e della riqualificazione urbana. Siamo appunto nel parco Midolini e quest'anno si è affrontata in particolare la tematica sì dell'ambiente ma in particolare del riuso delle tematiche dell'altezza, delle maestosità. Questo in conseguenza anche ad alcune esperienze vissute dalla presidente del premio Raffaella Midolini con escursione sul Monte Everest. Poi ci ha spiegato appunto anche questi aspetti. Sono state presentate le opere che hanno partecipato a questo premio, una decina e poco fa proprio sono stati premiati i primi tre classificati. Il terzo premio è andato all'artista Antonio Felice la montagna, il secondo premio all'opera dell'artista Tironi e il primo premio ad Alfonso Firmani. Prosegue dunque la festa, lo vedete, è ancora una serata da continuare a gustare in questo parco con opere veramente molto accattivanti, molto suggestive, come detto all'insegna delle tematiche ambientali. Sentiamo allora come si espressa la presidente del premio e poi di nuovo linea allo studio. Intanto l'oggetto di quest'anno è l'Himalaya, il campo base dell'Everest, dove io sono andata a novembre dell'anno scorso per una mission che per ripulire diciamo il campo base dai rifiuti. Dunque ci sono dieci opere e sono un po' diciamo c'è un artista che è argentino, poi un altro Dario Tironi che nel panorama italiano è molto importante e poi altri artisti friulani. Infatti diciamo che il parco Midolini è nato, la prima edizione, volendo fare al chilometro zero, nel senso cercare gli artisti tutti friulani. Poi man mano ci siamo espansi, infatti l'anno scorso ad esempio abbiamo avuto i ragazzi dell'Accademia di Brera che ci ha dato un riconoscimento anche l'Accademia l'anno scorso. Si sta evolvendo sempre. Si sta evolvendo sempre. All'insegno dei temi ambientali, della sostenibilità ma anche della rigenerazione urbana perché questo è stato fin dall'inizio anche un altro obiettivo del premio. Certo, certo perché io un domani lascerò questo parco al comune di Udine in modo che tutti siano fruibili, cioè tutti possano fruire di queste bellezze che sono le opere d'arte. Importante notizia che è arrivata dal Ministero dell'Università per quanto riguarda l'Università di Udine che ha visto accettate più di un centinaio di progetti di ricerca, alcuni riconosciuti di rilevanza nazionale. Andiamo a sentire di cosa si tratta nel servizio di Gian Andrea Cassincodi. Sono 125 in totale i progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale vinti quest'anno dall'Università di Udine su quasi 300 proposte presentate, di cui 41 come capofila nazionale. Di questi 125 progetti, 26 finanziati coi fondi del Piano Nazionale di Represa e Resilienza e approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e 12 vinti come coordinatore. Un risultato lusinghiero che dimostra le capacità dei nostri ricercatori di proporre e partecipare a progetti di rilievo nazionale. Queste le parole del Rettore Roberto Pinton, che sottolinea anche come su 300 proposte progettuali presentate oltre il 40% siano risultate vincenti. Anche il delegato alla ricerca, Alessandro Trovatelli, ha espresso il suo entusiasmo. Il risultato premia tutte le aree ed è un'ulteriore opportunità per il potenziamento della ricerca di base su tematiche di grande interesse per il nostro Paese. Dei 26 progetti PNRR, infatti, 14 appartengono ai settori scientifici delle scienze sociali e umanistiche, 7 a quelli della scienza della vita, mentre 5 alle scienze fisiche e ingegneristiche. Tra qualche settimana il Ministero comunicherà le risorse che verranno destinate per ogni progetto. Parliamo adesso dell'acciaieria che Danieli avrebbe voluto costruire a San Giorgio di Nogaro. La partita sembra chiusa dopo il no definitivo della Regione, di cui peraltro, vi anticipiamo, parleremo domani, nella prima puntata della nuova stagione televisiva dell'Agenda con Alberto Terrasso e Tommaso Cerno. Ma cosa è successo? Ci è successo che oggi è arrivato un altro parere da parte dell'Università di Udine, in questo caso, sul quale si legge che dal punto di vista ambientale non esistono condizioni evidenti per limitare a priori l'insediamento dell'ulteriore attività industriale nell'Aussacorno. Lo sostiene un studio relativo al progetto integrato di infrastrutturazione industriale, capacità logistica e implementazione dell'accessibilità al porto di San Giorgio di Nogaro, che la Regione ha commissionato all'Università di Udine per valutare l'idoneità del luogo a ospitare il polo siderurgico previsto dal progetto Adria, proposto dai gruppi Metinvest e Danieli. Lo riporta il quotidiano messaggero Veneto. Lo studio dell'Ateneo prefigura lo sviluppo del tessuto economico produttivo dell'area con nuovi insediamenti, primo fra tutti la realizzazione del polo siderurgico. Apriamo la pagina di Cultura e Spettacoli e lo facciamo con il servizio sulla presentazione della stagione degli Amici della Musica. Presidente Luisa Sello, ci si affaccia a una nuova stagione concertistica dell'Associazione Amici della Musica di Udine. Presentato oggi il programma, che avrà quali caratteristiche e quale calendario? Centoduesima stagione di grande musica e grandi interpreti. Sicuramente una ricerca di un repertorio importante, eseguito da musicisti che hanno una carriera internazionale. Iniziamo con una compagine polacca che ci presenta un repertorio di Chopin e quindi con nazionali dello stesso autore e terminiamo con l'orchestra del teatro di Grosseto che ci presenta musiche di Schumann e Poulenc. All'interno della stagione, che comprende nove concerti, ci sono gruppi di musica da camera e solisti. Cito tra tutti il pianista spagnolo Josep Kolom e la pianista ucraina Anfisa Bobilova. Ma ci saranno anche proposte nuove, fresche, con innesti delle New Generation, come il concerto dei fratelli Kropfich e il New Art Ensemble, che dal Kosovo ci porta un programma innovativo che presenta anche musica elettronica e danza. Un evento che vuole esaltare anche i luoghi caratteristici della città. Quest'anno, in particolare, è la Torre Santa Maria Palazzo Toriani. È una novità, è una sala che sicuramente si adatta molto bene acusticamente ai nostri programmi. Sicuramente per i concerti che presentiamo in questo spazio, dove è stato anche portato il nostro pianoforte storico Stanway Gran Code da concerto, trovano le giuste collocazioni. Al Palamostro tutti i concerti avranno inizio alle 19.22 per ricordare che l'associazione è stata fondata nel 1922. Sentiamo invece adesso quali saranno i prossimi impegni della Compagnia Ararea che sarà impegnata in Romania, in un progetto molto importante. Sentiamo. Da 18 al 26 di settembre sarò assieme ad Angelica Margherita e Irene Ferrara in residenza a Bucarest presso il collettivo Arial. Il collettivo Arial è uno dei partner stranieri del progetto GoToWords che è stato creato appositamente per le azioni di avvicinamento a Go2025 che vede Gorizia e Nova Gorizia, capitale della cultura europea. Siamo in residenza per poter concludere l'ultimo capitolo della telelogia che ha come indagini di ricerca il tema del limite confine che porta avanti dal 2021, Inside Human Living. E quindi sarà un'ottima occasione per potersi confrontare con gli artisti locali e poter dare ulteriore nutrimento al lavoro. Andiamo adesso a Gorizia dove questa mattina il prefetto Raffaele Ricciardi ha ricevuto al Palazzo di Governo gli studenti delle prime classi del polo liceale e delle scuole slovene di Gorizia accompagnati dal professor Livio Semoliz e dalla professoressa Karen Cossutta. Nel corso del tradizionale incontro con i ragazzi il prefetto salutandoli e dando loro il benvenuto in lingua slovena ha sottolineato la particolare importanza di far conoscere ai cittadini di domani le istituzioni della città che ha rimarcato sono al servizio della popolazione e di tutte le comunità che ne sono espressione. Rimaniamo a Gorizia perché da domani inizia Gusti di Frontiera. Mancano davvero poche, pochissime ore. Domani si inaugura la diciottesima edizione di Gusti di Frontiera. Una grande festa. Innanzitutto una festa. Non soltanto la festa del palato, la festa dell'amicizia, la festa della relazione. tantissimi sono quelli che da tutta Europa, non soltanto da tutta Italia prendono come appuntamento proprio Gusti di Frontiera per ritrovarsi come si faceva ai tempi nostri con l'Octoberfest. Perciò la più grande kermesse enogastronomica del nord-est del paese si mangerà, c'è da bere. Tutti e cinque continenti letteralmente in tavola. Ecco perché il nostro slogan è davvero corretto. Il mondo in tavola. Nel vero senso della parola. Cibo e cultura, vino e cultura, birra e cultura. Perciò una somministrazione anche culturale perché sono evidenti a tutti le radici che collegano naturalmente la storia, le tradizioni di un popolo, di un paese con quello che si trovava a tavola. Eccoci prima di entrare nella novità di quest'anno che è il parco del municipio. Possiamo vedere tutta la parte antistante dove ci sarà lo stand Io sono Friuli Venezia Giulia e quindi tutte le eccellenze che la Regione Promoturismo hanno portato a Gusti di Frontiera. Siamo nel parco del municipio di Gorizia. Questa è la grande novità di quest'anno. Proprio all'interno del parco, come vedete abbiamo iniziato gli allestimenti. Questa sarà la parte istituzionale. Siamo giunti al termine del telegiornale. Vi faccio vedere quali sono i programmi principali di questa sera. Tra poco subito dopo il telegiornale Tam Tam, lo spazio di approfondimento che da questa settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì e per le prossime settimane naturalmente accompagnerà la prima serata dopo il telegiornale, accompagnerà la prima serata dopo il telegiornale a cura di Alberto Terasso. E poi alle 21.15 l'ultima puntata della rivisitazione delle vecchie puntate di In Comune 2023. Saremo a chiusa forte, ma dalla prossima settimana ripartiremo con nuove trasmissioni, nuovi comuni visitati sempre da Giorgia Bortolossi e da Alessandro Pomare, il Poma. Quindi, 19.45 Alberto Terasso, 21.15, tag in comune, chiusa forte. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi lascio adesso alle previsioni del tempo. Buon proseguimento in nostra compagnia. Il Meteo è offerto da Prima Cassa, servizi bancari e assicurativi. Amici di TV12, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì una perturbazione dal Mediterraneo occidentale apporta dell'instabilità sul Friuli Venezia Giulia, con piogge e rovesci anche intensi. Temperature che saranno comunque comprese tra i 24 e i 28 gradi. Diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sulle province di Udine e Pordenone. Cieli molto nuvolosi, con delle precipitazioni sparse, non esclusi, appunto, come dicevo, anche dei temporali. Temperature minime intorno ai 19 gradi. Clima comunque molto mite nelle ore pomeridiane, con valori fino ai 25-27 gradi. Per quanto riguarda la situazione attesa sul Goriziano e sul Triestino, anche qui avremo dell'instabilità, con piogge e rovesci a carattere sparso. Si segnalano anche dei temporali. Temperature massime che sul Goriziano non supereranno i 25 gradi, 28 gradi invece su Trieste. Ventilazione che sarà in rinforzo. Dettagli sull'app di Trebi Meteo. Il Meteo è stato offerto da Prima Cassa, servizi bancari e assicurativi. Grazie! 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 Grazie a tutti.